La Roma è in semifinale d'Europa League La Roma è in semifinale d'Europa League Punto La Roma è in semifinale d'Europa League Punto esclamativo E sapete cosa vi dico Sapete cosa voglio aggiungere Che non era affatto scontato Assolutamente no Motivo per il quale Complimenti a questa squadra Complimenti al lavoro di Fonseca Che spesso è anche oggetto di critica A volte eccessiva A volte magari giusta Perché no Ma noi tendiamo come al solito Sempre a criticare un po' tutti Eppure la Roma di Paolo Fonseca L'unica squadra ancora che tiene alta La bandiera italiana in Europa E ancora ribadisco Sottoscrivo ed evidenzio Non era scontato Non era affatto scontato Poi ovvio Parliamone Perché sicuramente C'è stata un po' C'è stata della sofferenza All'andata Anche oggi è stata una partita Molto sofferta Ma oggi Si giocava Roma-Ajax Dall'altro lato Un'altra squadra Che si è giovane Ma con un allenatore Bravo Con dei talenti Importanti E quindi E' una partita Che sicuramente Non era Non era Non era affatto semplice Eppure ragazzi Nel corso della stagione La Roma Più volte No E' crollata Contro le cosiddette Big E invece adesso Porta a caso Un risultato importante Adesso affronterà sicuramente Lo United Ancora una squadra Di spessore Di tutt'altro Ancora spessore Se vogliamo Ma perché no Perché non credi Cioè perché non provarci Ma soprattutto Pensiamo Pensiamo alla sfida Pensiamo alla sfida Di oggi Che poi Secondo me E' stata approcciata bene Inizialmente la Roma E' scesa anche bene In campo No Pronti via Ha avuto subito Una grande chance Con Pellegrini Che fa tutto bene Anzi Benissimo Tranne il tiro Verso Verso la porta Gli è venuta La strizza Nel finale Non lo so Nella fase conclusiva Male E poi ha avuto subito Un'altra 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 occasione O meglio Ha segnato In fuorigioco Ma l'azione 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 Resta Sì fuorigioco Di vera e tua Assolutamente sì Ma l'azione Lo sviluppo Della manovra Resta Non si cancella Anzi Si evidenzia Si sottoscrive Perché E' stata un'altra Bella azione Poi Sono subentrate Le solite Le solite Difficoltà Difficoltà A volte Accentuate Perché come al solito Come al solito Io Sta Sta roba Di andare Sempre a Eccedere No Sul Sul passaggio Breve Sul passaggio Corto Sulla cosiddetta Costruzione Dal basso Soprattutto Questo Palleggiare Con il portiere A me è una roba Che veramente La trovo Eccessiva Cioè a volte È giusto Per carità Provare Ma a volte Eccessiva Anche oggi Anche oggi Paolo Lopez Aveva regalato Praticamente Un gol Praticamente Un gol Alla Attenzione Perché poi Queste cose Ragazzi Queste cose Alla lunga Fanno la differenza Un gol Lo poteva regalare All'andata Un gol Lo regalava Adesso E poi Queste cose Fanno la differenza Ma buttiamo Sta palla Alcune volte Buttiamo Il cappello Per aria Ogni tanto Che non è peccato Non si va All'inferno E tantomeno Al purgatorio Anzi Alcune volte Una palla Alta Ti può mandare Addirittura In paradiso Quindi Non serve Non serve Non serve Eccedere L'equilibrio Va bene Ciò che invece Eccede Mai 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 E lì Un pochettino Sai Inizia A avere la strizza Inizia un po' Anche avere un po' Di timore Un po' Di paura Lì salva Se non sbaglio Di Aguara Poi qualche Altra occasione Ad inizio ripresa Mette L'attaccante Brobe E lì E lì Sono quei gol Che la Roma Non può prendere Perché Bravissimo La brava Bravo Il difensore La palla Con i tempi giusti Bello Tutto quello che vuoi Ma Brobe In mezzo a due Col portiere Praticamente In mezzo a tre In mezzo a tre Riesce a trovare La giocata In mezzo a tre Considerando i due centrali E il portiere Non può far gol Non deve Fare Gol Assolutamente no Non deve fare gol E lì E lì Un po' Un po' Un po' Di paura Un po' Di apprezzione E lì Poi subentra E ovvio E ovvio Che Che subentra Soprattutto Quando appunto Entra Come al solito Quella mentalità Che poi Ma sai Adesso Prendi un gol Poi Perché lì Solo una zero Per l'Ajax Un due a zero Via Addio Buonanotte 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 E no E lì Poi Trovano appunto Il gol Benedetto Var Benedetto Var Benedetto Var Che spesso Noi critichiamo Spesso Noi valutiamo Spesso Aumenta Le polemiche Spesso Ci porta A esasperarci Nei dibattiti Spesso Ci provoca Delusione Però Benedetto Var Alla fine Benedetto Var E serate come queste Serate come queste Lo certificano Perché se non ci fosse Settato del Var L'arbitro Regala Un due a uno Inesistente Assurdo Ingiustificabile Ecco Per il fallo Su Mkhitarya Netto Netto E quindi Da lì Come se fosse Scattato qualcosa Lì In qualche modo La Roma Comunque Riuscita A tenere Ordine Trova il gol Con Dzeko Che ragazzi Tutto quello che vi pare Borca Maioralle È un giocatore Che poi entra E fa il suo Lo fa benissimo Questo è un ragazzo Giovane Che secondo me Ha una prospettiva Importante Davanti a sé Alla grande Ma è Dzeko Ad oggi Reste Dzeko Con la stagione Non migliore Con una stagione Sotto Ma è Dzeko A mio modo di vedere Resta È Dzeko Per il lavoro Che fa lì davanti Per il fatto Che si fa Trova pronto Quel gol Pesa tantissimo Pesa tantissimo Nella testa Pesa tantissimo Appunto Nell'economia Del risultato finale Pesa Veramente Quintali 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 Di adrenalina Quel gol là Ma bravo Nella stessa azione Calafiori Calafiori Che subentra Spinazzola Bravo Calafiori Bene o male La giocata Che porta La palla A lui Gliela dà Cala Ecco A proposito di Calafiori Bravo lui Ma quante assenze Quante difficoltà Per la stessa Roma Ragazzi Quante difficoltà Per questa squadra Nei titolari Quindi nelle problematiche Dovute agli infortuni E altre Eppure Ne esce Una Roma Vittoriosa Ne esce Una Roma Che va in semifinale E poche storie Poche chiacchiere Brava la Roma Di Fonseca Bravo quest'allenatore Che secondo me Sta lavorando anche bene Sta lavorando bene Lo so Che poi in Italia No La Roma Arriva in Champions Ok Fantastico l'allenatore La Roma Non arriva in Champions L'allenatore è da cambiare Purtroppo c'è questa C'è questa mentalità Purtroppo c'è questa idea C'è questa C'è questa visione E quindi ci sarà poco da fare Per Fonseca Perché oggi magari Bravo Fonseca Magari poi esci Col Manchester Via Fonseca Non serve a nulla Lo so Purtroppo Purtroppo funziona così Io invece penso che Del buono ci sia E sia sotto gli occhi Di tutti Per cui Oggi più che mai Avanti Avanti così E come direbbero a Roma Daglie 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 Ragazzi Daglie Daglie per davvero Fatemi sapere cosa ne pensate voi Commentate Likeate Se vi va Iscrivetevi al canale Un grande abbraccio Grazie 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 Grazie